Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignan. Ricordiamo che sulla FIPILI l'entrata Empoli-Est in direzione Firenze resterà chiusa per proroga per lavori nella tratta Empoli-Est-Montelupo-Fiorentino fino al 28 novembre. Per questi lavori chiusa la corsia di sorpasso in entrambe le direzioni. In direzione Firenze si segnala traffico rallentato tra Empoli e Montelupo. Sul d'accordo sino a Firenze possibili disagi per una riduzione di carreggiate in entrambe le direzioni per lavori tra Poggi Bonsi Nord e Tavarnelle e tra San Casciano e l'allaccio con la A1 Firenze in Pluneta. A Firenze in via La Mendola nel controviale transito e sosta vietati all'altezza di un cantiere tra Via Giotto e il Civico 48. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! A Firenze in via La Mendola nel controviale transito e sosta vietati all'altezza di San Casciano, Città Metropolitana di Firenze e Comune 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 di Firenze. Grazie!